A tre giornate dal termine è un Cesena quasi matematicamente salvo in Serie B grazie alle quattro vittorie e tre pareggi infilati negli ultimi sette turni che valgono anche il primato cadetto come miglior striscia positiva aperta. Nel pomeriggio solleggiato di Villa Silvia, davanti a circa 40 tifosi sparsi sulla tribuna del campo centrale in sintetico, Camplone ha tenuto la prima seduta di lavoro in vista del match contro il Novara. Sabato alle 15 mancheranno gli squalificati Falasco e Ciano. L'attaccante di Marcianise con il contuso Capelli e Agazzi si sono allenati indifferenziato. Tiene sicuramente banco lo stato fisico del difensore centrale, uscito a metà gara contro il Cittadella per una botta al polpaccio. Per lui si valuterà lo stato giorno per giorno. Notevoli progressi invece riguardano Cone, Rigione e Doncor sempre in gruppo. Venendo al campo, dopo l'apertura con il consueto riscaldamento, sono state svolte partite a tema, intervallate da Corsa Blanda. Nel test finale a campo ridotto, le pettorine arancio hanno battuto 2-1 la squadra nera, con le reti di Garritano e di Roberto. A nulla è servita la marcatura di Cocco. Dopo poco più di un'ora e un quarto, Camplone ha chiuso la giornata sperendo i suoi ragazzi sotto la doccia.